Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Telegram. Oggi ci occupiamo di una parola, in sostanza parleremo di smart, parleremo di come questa parola, però è una parola inglese che sta per efficiente, intelligente, per qualcosa all'avanguardia, come questa parola può essere applicata alle città e in modo particolare a una città che è la città di Firenze. Ne parleremo con chi si occupa, attraverso diverse declinazioni, di far diventare Firenze una città smart e quindi il presidente di Silphi S.P.A., Matteo Casanovi. Buonasera e benvenuto. Buonasera e grazie all'invito. Allora, tra l'altro, Silphi S.P.A. arriva proprio in questi ultimi mesi da un accorpamento di fatto insieme a Linea Comune, Linea Comune è entrata di fatto in Silphi, che vuol dire una fusione molto importante proprio per le strategie e le linee di intervento di questa importante realtà sulla città di Firenze. Allora facciamo così, partiamo dal servizio per capire meglio come si è arrivata a questa fusione e poi ne parliamo in studio. Vediamo. Wikipedia ci dice che la città intelligente, dall'inglese Smart City, in urbanistica e architettura è un insieme di strategie di pianificazione urbanistica, tese all'ottimizzazione e all'innovazione dei servizi pubblici, così da mettere in relazione le infrastrutture materiali della città con il capitale umano, intellettuale e sociale di chi le abita. In pochi mesi Firenze sarà ancora più Smart. Con la fusione di Silphi S.P.A. e Linea Comune S.P.A., moltissime informazioni del grande organismo che interessa l'area metropolitana fiorentina avranno un punto unico di raccolta ed elaborazione. Una rinnovata control room per il controllo della viabilità della mobilità metropolitana, integrata con il già esistente contact center 055-055. Innanzitutto questa società nasce da una fusione di due società molto importanti e per avere come obiettivo futuro quello di occuparsi delle tecnologie che in parte sono già qui e in parte vedremo nascere nei prossimi anni, dalle macchine connesse, che è già una cosa che stiamo vedendo, a tecnologie voice che per esempio nel caso di Linea Comune che si occupa dello 055-055, servizio molto apprezzato dai cittadini, probabilmente nei prossimi anni sarà tutto fatto con le nuove tecnologie vocali che stanno prendendo campo. 17 milioni di fatturato e 90 addetti. Con questa previsione per l'esercizio 2019 nasce a Firenze uno dei più grandi ed avanzati PoliSmart d'Italia. La nuova società, controllata all'83% da Palazzo Vecchio, opererà nei settori di illuminazione pubblica, mobilità, efficientamento energetico, comunicazione, innovazione, servizi online al cittadino e supervisione del traffico, dando vita nelle intenzioni dell'amministrazione a un unico Polo Smart, più potente, efficiente e meno dispersivo, per rendere ancora più intelligente non solo Firenze, seconda Milano, nell'apposita classifica italiana stilata annualmente da ICT Rate, ma l'intera area metropolitana. Allora, partiamo da qui, di fatto, insomma, questo è un servizio realizzato proprio nel momento della nasce, nei prossimi mesi, in realtà i mesi poi si sono già in parte avvicendati, però si entra nel vivo. Qual è la situazione, poi parleremo delle strategie, insomma, del futuro, della vision in qualche modo che voi avete, ma allo stato attuale che cos'è Silfi, di cosa si occupa, che cosa significa in termini numerici questo importante ente per Firenze? Allora, Silfi, di oggi, dopo la fusione che ha avuto efficacia il 1 maggio, è, come diceva, il servizio, uno dei Poli Smart più importanti d'Italia, e comunque delle città medie, come Firenze, diciamo, è il più grande, e nasce dall'intuizione dell'integrazione di più servizi in un'unica società. perché, dice, che cosa ha in comune la luce con lo 055 o con la viabilità o con la Firenze Card per i turisti? Ha in comune che è un servizio cosiddetto intelligente ed è una tipologia di servizi che, se gestiti tutti assieme, riescono a dare risposte più efficaci ai cittadini, che poi alla fine è il motivo per cui stiamo facendo tutto questo. Dicevamo anche nel servizio, 17 milioni di fatturato, 90 addetti, insomma, come dire, è anche una realtà, da un punto di vista sia lavorativo, come dire, occupazionale, ma anche appunto di gestione di diversi capitoli, in qualche modo piuttosto grande e all'avanguardia, no? In un certo senso. Sono i numeri, no? Che poi fanno la differenza. Sì, 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 assolutamente. Anche perché, ovviamente, accentrando così tanti servizi che in altre realtà vengono fatti da tante società, fatti da una società sola, già di cui si intuisce la capacità di efficienza e di risparmio che ha questa operazione. Dopodiché, questo è un dato importante, l'efficientamento delle risorse pubbliche è sempre un dato, come dire, positivo ed auspicabile, e quindi l'abbattimento dell'economia di scala, l'abbattimento dei costi fissi, l'abbattimento dei costi generali che sarebbero ripetuti più volte, il concentrare tutto in un unico Consiglio di amministrazione, altro che in più organi di governo, quindi questo sicuramente. Il dato che ci interessa è mettere insieme tutti questi servizi per sviluppare un modo nuovo e più integrato di farli, per adeguarci ai bisogni dei cittadini, che i cittadini, quando hanno un'esigenza, non sanno se quella cosa dipende da SAS, dipende da Silfi, da Publiacqua, o dal Comune, o dall'Anagrafe, è il pubblico, no? E quindi in questo modo, come dire, mettendo insieme tutti questi servizi e gestendoli sotto un unico tetto, con un'unica logica e poi probabilmente anche con un unico nome che è in divenire, il sindaco Nardella proponeva Firenze Smart, ma insomma sono temi che poi vedremo prossimamente. Ecco, con questa intuizione qui noi pensiamo di rispondere in maniera più unitaria a bisogni che sono vissuti come unitari. Senta, tra l'altro in qualche modo, come diceva lei, come ricordava, insomma oggi Silfi è di fatto di proprietà di 10 soci pubblici, giusto? Che rapporto c'è con i vostri soci, di fatto con quelli che detengono poi la Silfi? Dunque, Silfi nasce come, nasce nell'85, quindi molto addietro, come società pubblico privato, con il privato al 70%. In questa legislatura siamo riusciti a ripubblicizzare a costo zero Silfi, liquidando il socio privato, quindi abbiamo fatto un'operazione di ripubblicizzazione perché credevamo nella realizzazione del Polo Smart e quello ci serviva come primo passaggio per fondere, come dire, società pubbliche con società pubbliche. Questo era il nostro obiettivo. Quindi il primo passaggio è stato nel 2016 la ripubblicizzazione, poi abbiamo fatto l'operazione LED e altre operazioni e adesso abbiamo fatto l'aggregazione. Quindi noi adesso siamo passati da 20 giorni oggi ad avere un socio unico, che era il Comune di Firenze, ad avere 10 soci. Cioè l'estensione dei servizi e la logica non sarà più quella dei confini del Comune di Firenze, ma sarà quella dell'area metropolitana. Quasi tutti i comuni dell'area metropolitana sono soci o direttamente o tramite Unione dei Comuni. Anche come il Mugello, ad esempio. Come per esempio i Comuni del Mugello stanno dentro come Unione dei Comuni. Perché questo passaggio? Noi siamo convinti di questo passaggio perché... Parliamo di numeri, parliamo di cose, almeno ci si capisce da un punto di vista più concreto. Se Firenze ha 175 colonnine di ricarica elettrica, quindi visto che ognuna ha due prese, sono 350 prese, quindi sono una ogni mille cittadini praticamente. Tutti i Comuni dell'Interland e gli altri Comuni dell'area metropolitana non hanno assolutamente questa densità. Firenze è prima in Europa per questa densità. Ma la mobilità elettrica e la mobilità sostenibile è destinata al cittadino che vive a Sesto, ma lavora a Firenze, il figlio gioca basket a Calenzano, ha la mamma a Prato. È lì che si deve andare a incidere. Quindi la logica della società che si ferma al confine formale del Comune di Firenze non ha più senso, perché la scala dei problemi è quella dell'area abitata. E quindi l'area vasta abitata in realtà comprende tutti i Comuni intorno. Lo stesso per quanto riguarda la parte semaforica. È inutile che ci sia una sincronizzazione semaforica già complicata dalla tramvia, ma insomma è inutile che ci sia un coordinamento semaforico dentro il Comune di Firenze. Poi uno quando arriva alla via Sestese viene lasciato a se stesso o quando entra sulla Faintina o sulla Bolognese non è più territorio di nessuno. La scala dei problemi e soprattutto della mobilità e dei servizi smart è la scala dell'area abitata. Ci siamo adeguati a questo. Diciamo che è uno di quegli esempi in cui sostanzialmente l'idea poi della grande Firenze insomma è anche un sogno anche a livello amministrativo di confine amministrativi insomma che è un sogno piuttosto lontano o in qualche modo avventuroso, complicato però diciamo mette le proprie radici pratiche poi quando si sviluppano regolamenti urbanistici unici o come in questo caso servizi in qualche modo cercano di essere amalgamati, armonizzati su tutto il territorio se non altro della cintura metropolitana di Firenze. Ad oggi secondo lei, insomma dal suo punto di vista che cosa vuol dire per una città essere smart? Perché ne abbiamo parlato tanto di questo nome ma forse vada appena a spenderci qualche minuto che cosa significa in termini pratici? Allora essere smart vuol dire innanzitutto restituire tempo ai cittadini quindi se con i servizi online o con una migliore gestione della mobilità riusciamo a restituire del tempo ai cittadini a farli perdere meno tempo in code o in pratiche burocratiche vuol dire che abbiamo fatto il nostro lavoro essenzialmente è questo ovviamente poi l'essere smart implica tutta un'infrastrutturazione tecnologica e un incremento del tasso di innovazione nei servizi pubblici questo a volte è un lavoro più di back office che il cittadino poi alla fine non vede lo vede perché magari quel territorio lì è un territorio che ha l'addizionale IRPEF comunale più bassa d'Italia che sotto i 25 mila euro non si paga e sopra lo 0,2% perché? perché alla fine quei servizi implicano un minore fa bisogno di spesa da parte del comune e quindi l'essere smart è anche un risparmio economico però ripeto l'obiettivo è restituire tempo alle persone e dal punto di vista come dire poi magari amplieremo anche il discorso ma dal punto di vista delle potenzialità che in termini smart una città può esprimere mi viene in mente la mobilità integrata la facilità di accesso ai servizi quali possono essere le frontiere? allora procedendo per integrazioni sia territoriali sia poi anche di numero di servizi fatti essere smart vuol dire anche continuare su questa strada fino ad arrivare a gennaio fino al nuovo anno i primi mesi del prossimo anno in cui partirà la smart city control room lo dico in italiano una unica cabina di regia in cui mettere tutte sotto la regia di Silfi e della mobilità del comune di Firenze mettere tutte le società partecipate da chi si occupa di sottoservizi e quindi con i guasti, i cantieri, le manutenzioni Toscana Energia e Pubblicacqua dall'altra parte chi si occupa di servizio pubblico quindi per esempio ATAF o chi si occupa comunque di manutenzione della strada SAS o il Global Service di AVR tutti i vigili come operatore fondamentale quindi mettere tutti questi insieme in modo tale che al momento in cui si verifica il danno di piccolo cabotaggio cioè quando si parla di piano neve o di grandi eventi c'è la sala di controllo della protezione civile che funziona per fortuna egregiamente il tema per restituire tempo ed efficienza alle persone è quello di riuscire a gestire meglio il piccolo cabotaggio quotidiano il day by day cioè il cantiere sotto casa che mette il divieto di sosta e poi parte dopo tre giorni o il senso unico cambiato l'incidente o il guasto dei sottoservizi magari nell'ora di punta magari nel giorno in cui c'è pitti la partita è piove allora succedono queste cose esatto oggi cronometro alla mano dato un evento di questo tipo siamo in grado di risolvere la congestione tra un'ora e un'ora e mezzo stando tutti insieme avendo una certa pianificazione e alcuni protocolli di intervento comuni noi dobbiamo riuscire a risolvere quella congestione di traffico in un quarto d'ora un obiettivo ambizioso insomma sì però è alla pruttata stiamo facendo le prime simulazioni in realtà questo è possibile perché mettendo insieme chi cambia piani semaforici chi scrive sui pannelli un messaggio variabile la deviazione del traffico lo 055 055 i vigili i sottoservizi mettendo tutti insieme in realtà riusciamo a avere questa efficacia di intervento penso solo perché Silfi che si occupa di asset materiali poi si è messa insieme con i sistemisti e i softwareisti di linea comune perché tutti quei dati che tutti i nostri impianti tecnologici sul territorio ci restituiscono alla sala di controllo noi bisogna essere in grado come big data e come open data cioè come dati pubblici di trasmetterli alle app più usate dalla gente è inutile che se io vengo a Firenze io sono di Varese vengo a Firenze per lavoro un giorno devo scaricare l'app di Firenze io userò Garmin TomTom Street View Google Map Waze bisogna che questi grandi fornitori di servizi abbiano un fornitore di dati locali pregiati che saremmo noi in modo tale che io sono il lavoratore di Bari che è venuto a Firenze dalla mattina alla sera sto andando verso la zona dove si è verificato il problema e in realtà il mio navigatore mi dice gira a destra e cambia strada io non so perché lui me lo dice ma io risparmio mezz'ora di blocco e non vado ad alimentare la congestione che si è verificata il perché di fatto è quello che la Silfi sta facendo sta costituendo con una sala di regia apposita senta ovviamente come dire ne abbiamo già parlato e questo forse nella dimostrazione pratica di come poi la sinergia la rete poi fa la differenza ovviamente questo tutto all'ombra come dire in un certo senso del Comune di Firenze che rapporto c'è stato che rapporto c'è con l'amministrazione insomma con chi si occupa poi del vostro rambo di intervento allora il rapporto è molto buono abbiamo delle direzioni del Comune di Firenze con cui c'è un dialogo informale continuo ovviamente c'è tutta la parte formale il contratto di servizio procedurale però in realtà i rapporti informali sono molto facili e la visione è la medesima e da questi primi passi che abbiamo mosso vediamo che anche con tutti i Comuni limitrofi c'è comunque un'identità di visione cioè tutti abbiamo capito che è quella la direzione verso la quale andare l'obiettivo diciamo sì sì esatto l'obiettivo è comune per cui ci si trova per discutere come fare non per discutere cosa fare e questo anche in termini di tempo ed efficientemente le risorse il grande vantaggio dei Comuni che si sono aggregati e che al momento hanno servizi dell'illuminazione o della fibra delle telecamere dei semafori ognuno organizzato in un modo ovviamente diverso non avendo avuto la Silfi fino ad ora potranno mantenere chi vuole questa differenza chi vuole potrà avere la consulenza della Silfi chi vuole potrà avere il servizio il servizio anche anche completo quello che rileva è che in questo modo il nostro territorio dal Mugello fino fino al Chianti praticamente riesce a fare massa anche per il fundraising cioè Firenze per esempio ha una grande capacità di attrazione dei finanziamenti europei cosa che i comuni e i mitrofi non hanno o hanno in scala minore quindi noi riusciamo a questo punto a utilizzare tutti i fondi destinati alle città metropolitane per i fondi per un metro a beneficio di tutta veramente di tutta l'area quindi questo è un altro grande obiettivo che incentiva i comuni a procedere sulla strada di questa fusione la possibilità è quella di entrare in un soggetto che proprio per le dimensioni e per i rapporti con Firenze ha un'attrattività particolare anche su tutto profilo di investimento e quindi poi possono ricadere su tutto il territorio circostante non soltanto sul capoluogo va bene allora ci fermiamo per 5 minuti torneremo tra pochissimo e vedremo anche insomma nel concreto quali sono le operazioni che Silvia ha fatto in questi anni anche come dire nella capacità che ha avuto da sempre un po' per la sua storia insomma le dicevamo una storia anche molto lunga nel tempo e un po' anche per le ultime illuminazioni per gli ultimi eventi diciamo così a cui ha partecipato anche di entrare nel cuore dei fiorentini questo non è scontato però i fiorentini poi si innamorano di certe aziende e mi viene in mente insomma alcune ad esempio aziende o non aziende i Maier la Mucchi per dire alcune insomma sono simboli che rimangono a Firenze secondo me siamo vicini soltanto che per quanto riguarda la Silfi con un occhio più proiettato al futuro ne parliamo tra pochissimo giusto 5 minuti di informazione restate con noi grazie a tutti ben tornati in studio allora stiamo parlando con il presidente di Silfi SPA Matteo Casanovi e quindi stiamo parlando di Firenze Smart di una città che insomma guarda il futuro soprattutto sulle nuove tecnologie ma soprattutto come abbiamo detto nella prima parte sulla capacità di coordinarsi ed avere una regia unica anche nell'intervento diretto e più veloce della gestione di problematiche che possono essere sul territorio anche sul territorio metropolitano e questa è forse una delle notizie migliori anche per chi abita fuori dalla cintura delle mure diciamo così di Firenze c'è però anche tutto quello che la Silfi ha fatto fino ad oggi che insomma è capitato sicuramente di vedere ad esempio nell'illuminazione di edifici pubblici di pregio di edifici quali possono essere le chiese fiorentine ad esempio molto bella quella che riguarda San Mignato che risposta avete dalla cittadinanza quando vi capita come dire di accendere una nuova illuminazione di rilluminare un palazzo che sappiamo a Firenze insomma essere nel cuore dei fiorentini come ad esempio San Mignato ma per dirne uno che risposta c'è? La risposta è sempre positiva che sono in copilazione will win nel senso andiamo a rendere più bello qualcosa del patrimonio artistico l'emozione a dicembre è stata quella di il nuovo impianto a led di San Mignato impianto colorato con possibilità di illuminazione artistica dinamica più colori intanto per la visibilità dai lungarni della facciata della chiesa e poi perché l'abbiamo fatta perché quell'anno San Mignato compieva mille anni e quindi era l'idea di applicare le tecnologie più nuove su una vecchietta così importante e quindi questa è stata un'operazione veramente molto bella cioè noi tendiamo ad inserire l'innovazione in maniera massiva a Firenze sia sulla sicurezza che sulla tecnologia che sulla bellezza però mantenendo le forme della tradizione non è scontato come tra l'altro i fiorentini su questo sono anche molto gelosi delle proprie opere e anche è facile che storgiano il naso quando ci sono le commistioni appunto tra nuovo e antico anche se poi tutto sommato mi pare di vedere negli ultimi cinque anni visto che sono stati un po' educati come dire anche proprio artisticamente a questa commistione tra nuovo e vecchio poi in realtà il risultato sia stato apprezzato in linea di massima mi pare per l'illuminazione insomma poi riguarda anche il festival che voi avete supportato insomma ad esempio quello di F-Light e altre situazioni del genere mi pare la risposta sia stata ancora migliore insomma non ci sia stato quella cosa di dire ah non toccate i nostri edifici allora in realtà siamo fiorentini anche noi quindi abbiamo lo stesso tasso di conservazione di polemica proprio di questa città quindi a noi ci piace per esempio quando siamo andati a cambiare l'illuminazione nelle zone collinari di Firenze più esterne abbiamo realizzato comunque un tipo di luce con l'involucro bianco che ricordava le vecchie lenticchie insomma le vecchie le vecchie piattelline che c'erano proprio per non sciupare il contesto urbanistico come tutta la parte via dei Servi via Alfani eccetera le lanterne ottocentesche è stato fatto il retrofit ma le lanterne sono le medesime non le abbiamo toccate cioè ripeto continuiamo a usare la tecnologia e l'innovazione lasciando le forme alla tradizione perché tra l'altro sono belle e per noi vogliono dire qualcosa poi ogni tanto facciamo le cose più provocatorie come per F-Light insieme a Muse quando c'è tutto il videomapping su Ponte Vecchio o su altri edifici storici dopodiché in realtà poi è apprezzato anche quello perché non è una svendita commerciale è solo un momento artistico e poi fatto con la luce cioè con una cosa che è poco invasiva e che appena si spenge rimette tutto a posto non lascia residui quindi da questo punto di vista le operazioni ci fa piacere che l'impatto sui fiorentini sia sul led in altre città vediamo dalla rassina stampa tutti i giorni che a volte qualcuno si lamenta con il led c'è un po' più buio i resoconti che abbiamo noi dal nostro numero verde sono dei cittadini che ci chiamano per dire la mia strada ancora gialla illuminata col sodio quando mi mettete il led perché il mio vicino ce l'ha quindi questo vuol dire che abbiamo dato più sicurezza e più comfort notturno a quelle strade dove siamo intervenuti e questo può che farci facere è anche risparmio energetico notevole per il comune perché insomma il led consuma molto meno sì il piano complessivo riguardava l'installazione di 30.000 nuove luci al led per ora siamo fermi alla fase 1 ne abbiamo messi 20.000 quindi in città 26.000 luci sono al led quindi è il 55% il risparmio stimabile ad oggi è attorno al 30% della bolletta la bolletta energetica fiorentina è da 5 milioni di euro quindi questo vuol dire che siamo già a 3 milioni e mezzo l'anno l'obiettivo è arrivare arrivare intorno ai 3 milioni sui semafori già dall'aprile 2017 3.800 lanterne semaforiche su 3.800 sono interamente a led nel comune di Firenze consideriamo che una lanterna tradizionale a incandescenza con la lampadina bianca, rossa e verde no bianca no gialla gialla, rossa e verde consuma 80 watt un impianto a led ne consuma tra 7 e 8 quindi insomma il risparmio tutti questi interventi noi riusciamo finanziamenti europei o non finanziamenti europei in 3 anni a rientrare dell'investimento la durata dell'ed è stimabile in 10 quindi insomma abbiamo 7 anni di guadagno pieno nella misura che si diceva non c'è da battere le spese per la sostituzione sono di guadagno puro diciamo così molto bene tra l'altro visto che lo citava anche lei in termini di sicurezza abbiamo parlato dei lampioni perché è poi uno dei temi ora senza entrare nella campagna elettorale prima volta ci siamo presi una boccata d'aria insomma in questi giorni che sono ovviamente quelli di avvicinamento al 26 maggio però il tema della sicurezza è uno dei temi fondamentali di discussione oggi nelle città non soltanto quelle che vanno al voto abbiamo parlato dell'illuminazione pubblica c'è anche il discorso delle telecamere qual è il piano su Firenze da questo punto di vista? allora intanto l'illuminazione nel senso che l'illuminazione a led illumina meno verso l'alto perché c'è meno un chilometro luminoso ma illumina molto di più verso il basso abbiamo progettato strada per strada in modo da avere confort luminoso sia per il guidatore sia per il pedone in questa operazione nelle 20.000 sostituzioni ci sono già state più di 800 punti luce nuovi dedicati solo esclusivamente a marciapiedi quindi in tutti i grandi viali c'è il punto luce per i marciapiedi e questo ha portato i marciapiedi a avere questi aggiunti nuovi in più che non c'erano no il risparmio era talmente alto che ci permette di mettere dei punti luce nuovi senza un grosso aggravio di costi in bolletta poi insomma sono luci abbastanza economiche quindi questo è la prima cosa cioè come a volte ci dice la pubblica sicurezza quando illuminiamo una zona nuova come è stato per lungo pochi mesi fa ci viene detto grazie perché noi si risparmia una fattuglia perché la luce è un presidio quindi la luce come prima cosa e poi indubbiamente le telecamere in questi giorni stiamo passando dalle 700 alle 750 a inizio a inizio legislatura Firenze aveva circa 300 telecamere quindi sono più che raddoppiate ovviamente c'è una c'è una ripartizione in queste telecamere il ruolo dei vigili e della pubblica sicurezza è di registrare le immagini tant'è che se qualche cittadino fa un incidente può chiedere nelle 48 ore se quella zona era coperta da una telecamera la registrazione ai fini assicurativi della causa legale eccetera loro hanno il compito della pubblica sicurezza e beneficiano come dire del fatto che tutte queste telecamere siano collegate sotto terra da 400 km di fibra ottica di proprietà esclusiva del comune che permettono di avere una qualità di altissima risoluzione delle immagini e quindi loro poi avranno tutti i software relativi alla parte di sicurezza a noi ovviamente di Silfi la parte delle telecamere ci interessa per il monitoraggio del traffico quando andiamo assieme alla mobilità a cambiare i piani semaforici abbiamo immediatamente un riscontro visivo se quel nuovo piano semaforico sta effettivamente snellendo la coda oppure no o ci fa capire comunque meglio la situazione sul territorio questa è la parte nostra fondamentale una domanda visto che parlavamo di traffio parliamo di gestione della mobilità e insomma parlando di Firenze Città Smart una domanda sulla tramvia gliela devo fare come è cambiato dal vostro punto di vista la vita dei cittadini è qualcosa che si inserisce come appunto dal punto di vista della mobilità nell'ottica di una città smart come è stato fatto qual è insomma l'impatto che ha avuto anche sulla città anche dal punto di vista semaforico ma non solo e soprattutto insomma anche in previsione di quelle dovrebbero essere le nuove linee da progetto rimaniamo su quello allora Firenze è piccola ma è un grande sistema e tutta una serie di politiche sono state fatte in modo coordinato non è casuale lo sviluppo delle linee della tramvia assieme alle colonie elettriche assieme al car sharing ai taxi elettrici al bike sharing cioè questo è un unico progetto di cui Silfi è un pezzo e copre una parte però la strategia condivisa poi alla fine è unica quindi siamo assolutamente a favore della tramvia e ci lavoriamo tanto anche banalmente per la manutenzione dei semafori il tema della tramvia è che ovviamente è un sistema quasi di esagero ma insomma tanto per capirci di un treno che va a sovrapporsi alla viabilità ordinaria questo cosa implica che tutte le sincronizzazioni dei semafori della rete viaria devono fare conti con un sistema invece che si sovrappone e che ha una sua logica perché deve dare quei tempi di percorrenza quei 4 minuti e 20 o tra un convoglio e l'altro eccetera quindi il nostro compito lì è stato lo studio e l'ottimizzazione e ovviamente non è finita della sintonia fine tra quel sistema e il sistema aviario per tante cose ci siamo riusciti in piazza Dalmazia non nei primi 15 giorni ma dall'apertura delle scuole a settembre che sì adesso in piazza Dalmazia tranne avvolto qualche coda su via Mariti non c'è grandissima congestione diverso è il caso sempre positivo di Viale Belfiore che fin dal primo momento poteva essere uno dei nodi critici invece c'è un grande scorrimento non è così dappertutto tutta la filiera di piazza Batoni Argingrosso eccetera sul Arcipressi sulla linea 1 deve ancora avere questa sintonia fine qui ci stiamo lavorando fortunatamente da parte del Comune da parte di Geste ci sono interlocutori tecnici con cui riusciamo a scambiarci bene è un lavoro di fino però è un work in progress quindi in dei punti i cittadini vedranno che questa intersezione ha un esito più favorevole in dei punti è ancora un po' ruvido un po' ostico però ecco sappiate ci stiamo lavorando ultime due cose la prima gliela chiedo come dire gli chiedo un parere sui fiorentini perché insomma voi in qualche modo anche se gran parte del lavoro l'abbiamo ripetuto più volte è quel lavoro che non viene visto inizialmente non viene percepito di fatto dagli utenti però in qualche modo sta dietro al funzionamento della macchina generale diciamo così però in parte insomma voi offrite da questa fusione dopo questa fusione ancora di più anche un servizio diretto al cittadino come sono i cittadini di Firenze educati da questo punto di vista cioè sanno usare anche le nuove tecnologie i nuovi approcci sanno di avere un senso una sorta di senso civico comune che comunque al di là di quello che può fare può non fare Silvi hanno una loro in qualche modo autonomia e una loro possibilità di far funzionare meglio le cose i cittadini fiorentini usano tantissime nuove tecnologie i numeri del ramo d'azienda di linea comune che abbiamo incorporato sono eccezionali cioè al call center allo 055 055 su una popolazione residente di circa 500.000 persone si rivolgono 350.000 chiamate l'anno la maggior parte delle quali risolte dall'operatore al primo livello senza arrivi al comune ci sono corsi di formazione per gli operatori scambio di informazioni coordinamento però questo è una prima risposta ed è utilizzatissimo i servizi online del comune di Firenze che spazzano dal pagamento delle multe all'iscrizione dei figli a scuola alle pratiche dei professionisti al SUAP eccetera quindi da un livello molto blando a un livello professionalmente elevato abbiamo 800 nel 2019 c'è stata regolazione di 820.000 servizi online quindi rispetto alla popolazione adulta in media ogni persona ha usato due volte i servizi online c'è stato tanti milioni di euro di fondi pubblici transati tanti pagamenti tra cui ci fa piacere che è una delle pagine più utilizzate se la pagina per il pagamento delle multe è in inglese perché i turisti prendono la multa e poi la pagano che non è scontato e che è una cosa che ci fa estremamente piacere e quindi diciamo tutta la gestione del back office hardware e software fatta da linea comune e dalla direzione dei servizi informativi permette di rispondere a questi accessi H24 che fanno i fiorentini spesso vediamo pratiche appunto del SUAP o dell'anagrafe fatte dopo scena perché il cittadino lavora poi torna a casa e fa la pratica dopo scena quindi ecco c'è un grandissimo utilizzo delle tecnologie insomma laddove la città offre i cittadini rispondono ultima cosa abbiamo parlato in qualche modo anche di quello che Silfi fa e ha fatto insomma con i festival con le illuminazioni anche appunto a supporto come dire di un gusto estetico diciamo così che riguarda la città e che giustamente la città di Firenze come patria del rinascimento deve avere e deve continuare ad avere anche in senso moderno questo però in un modo o nell'altro come dire agevola anche l'immagine di Silfi che entra piano piano nel cuore dei fiorentini cioè che diventi piano 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 come già è dal punto di vista storia che rimanga nel cuore dei fiorentini come una dei propri patrimoni diciamo così ci siete riusciti e cosa potete fare in questo senso insomma siete orgogliosi in qualche modo di essere una parte fondamentale per il funzionamento di Firenze e quindi la fruizione per i fiorentini noi a volte siamo contenti quando i cittadini scoprono Silfi nel momento in cui vengono a contatto con noi perché nei 30 anni precedenti non hanno mai avuto un problema sull'illuminazione o su un semaforo e quindi questo come dire ci fa cioè a volte non si conoscono cioè si dà per scontato un servizio quando ha sempre funzionato se si chiama il numero verde le luci anche di notte vengono riaccese perché il servizio comunque è H24 c'è sempre un operatore anche la notte quando dal cittadino o dal vigile ci arriva la comunicazione di un semaforo che non funziona noi per il contratto con il Comune di Firenze entro un'ora bisogna essere sul luogo ad intervenire se no abbiamo una multa a nostra volta abbiamo tenuto questo tempo tra i 40 e i 45 minuti quindi diciamo il servizio è mediamente buono poi ripeto noi fiorentini siamo adorabili perché siamo polemici quindi chiaramente non è tutto rosa e fiori però ecco in particolare ripeto ci fanno piacere quelle telefonate di quelli che ci chiamano dicendo la mia strada ancora non è a led che aspettate ecco vuol dire che finora è andata bene e che adesso può approfitto visto che ci stanno entro un anno saranno a led tutte quelle dei quartieri periferici dei quattro quartieri periferici e tra l'altro questo è uno degli altri temi diciamo così in passata la campagna elettorale la risposta poi come dire arriva già pianificata ed è una risposta importante tra l'altro ci aggiungiamo questo come nota di colore in fondo che ogni tanto Silfi permette diciamo a cittadini illustri ma non solo in realtà anche a persone comuni di accendere le luci della città e questo è sempre un grande onore per tutti tutti quelli che sono venuti hanno sempre avuto a cuore questo particolare momento che ovviamente dalle luci dalla vita notturna diciamo così alla città di Firenze è davvero un bellissimo momento grazie mille Matteo Cosa Novi per essere stato con me grazie a voi grazie a tutti per averci seguito da casa Telegram termina qui e noi ci vediamo domani buona serata a tutti